Giulia, qui dentro si nasconde una principessa Disney. Guarda Giulia, ho trovato Aurora, quella che non riesci a trovare tu nelle Disney Box. Allora sono certa che saprei rispondere a questa domanda. E te pareva? Perché Disney è vita, lo sanno tutti. Perché Disney è vita. In cosa si trasforma Malefica per combattere contro il principe Filippo al castello? Eh, in un polipo gigante. Quella è Ursula della Sirenetta. Eh, in una vecchietta con il neo sul naso. Quella è Biancaneve. Diteglielo voi in cosa si è trasformata Malefica.